La novità è l'arrivo del coronavirus in Italia e questo cambia l'approccio sanitario nelle varie province del Veneto. A Bassano vertice tra comune, azienda sanitaria, conferenza dei sindaci, protezione civile, croce rossa, carabinieri e agesci. Nessun allarme è quello che è emerso dall'incontro, ma l'invito a rivolgersi al pronto soccorso o al medico di base se si hanno dei dubbi sulla propria condizione di salute. Quello che è sufficiente fare e doveroso è seguire le prescrizioni che sono state diramate anche con dei video dalla Regione Veneto e come comune abbiamo pubblicato questo video anche sul nostro sito istituzionale. Quanto alle iniziative per il Carnevale, dal Veglione agli eventi ufficiali, sfilata dei carri compresa, il sindaco ha comunicato che non ci sono indicazioni contrarie e che quindi tutto si svolgerà regolarmente fino a diverse comunicazioni dalla Regione o dal Ministero. Dalla Regione Veneto arrivano indicazioni di confermarle. Il fatto poi che non ci siano state segnalazioni di contagi nel Bassanese significa che anche le autorità sanitarie non cambieranno strategia. Si continua con le indicazioni che sono quelle che abbiamo già detto, cioè da una parte di avvisare le persone che rientrano dalla Cina devono essere consapevoli di provenire da una zona a rischio e quindi è consigliabile il loro isolamento fiduciario per almeno 14 giorni. Vita quotidiana normale, nessun cambio radicale di abitudini dunque il messaggio per i cittadini, tranne l'invito a tenere buone prassi igieniche, raccomandato il lavaggio frequente delle mani, coprirsi la bocca in caso di tosse e starnuti e usare fazzoletti, usa e getta. Si procede con la vita normale, allo Stato in prefettura non ci sono stati ancora dei tavoli di lavoro, significa proprio che la situazione per il momento è tranquilla e speriamo che continui ad essere così. Ogni variazione, ogni notizia verranno diramate attraverso i canali istituzionali, compreso il sito internet del Comune.